Amici dello sportello del cittadino, sapete un po' come il mio modus operandi dal punto di vista giornalistico, il mio è un giornalismo di denuncia, un giornalismo di inchiesta, ma ci sono anche delle eccellenze del nostro territorio, tante realtà che arricchiscono il nostro patrimonio storico, culturale e artistico. E allora è bene valorizzarle, è bene dare lustro alle stesse. Taranto e la sua provincia non sono solo la terra dell'Ilva, certo l'Ilva è un bubone, ma esistono delle realtà davvero splendide. Eccomi dinanzi alla chiesa rupestre di San Nicola nell'Agro, in zona di Mottola per intenderci, una chiesa che risale più o meno al 1000 d.C. Io penso che le immagini siano più eloquenti di ogni mio commento. Ecco, vedete, quando vediamo queste ricchezze, io penso che proprio su questi beni artistici noi dovremmo costruire il nostro futuro, dovremmo fare marketing territoriale, perché in tante parti d'Italia si è in grado di valorizzare anche la pietra più semplice, la pietra più insignificante. Questo deve essere un po' da monito, deve essere per noi un insegnamento, la riscoperta della natura, la riscoperta della storia, la riscoperta del nostro patrimonio storico, archeologico. Ecco, io non voglio aggiungere altro, ma credo che davvero le immagini, questi splendidi affreschi parlino da sé. E allora veniamo a Mottola e visitiamo il patrimonio delle chiesi rupestri a partire dalla chiesa di San Nicola.